Mamma mia ragazzi, mamma mia, come è ripartita questa Serie A e che squadra è l'Atalanta di Gasperini che inizia un tour de force nel migliore dei modi con una qualità, con una personalità, con una freddezza con una capacità di lettura della partita invidiabile una squadra grande, grandissima, forte, con tanti giocatori, con tante opzioni, con tante soluzioni e con un grandissimo allenatore in panchina avevamo detto nel video dei giorni precedenti, nel percorso alla Champions League dell'Atalanta che probabilmente aveva il calendario più fitto e più difficile di tutti però oggi ragazzi ha fatto una prestazione al Maradona dove ha rischiato qualcosa poi soprattutto nel secondo tempo però ragazzi ha fatto una grande, grande, grandissima partita e ha dimostrato di essere una squadra in salute che corre tanto probabilmente è stato fatto anche qualche richiamo durante la sosta dell'operazione vanno a 2000 ragazzi, vanno a 2000, hanno un sistema di gioco consolidato hanno delle idee forti, hanno delle idee chiare hanno dei giocatori tecnici, validi e soprattutto ragazzi interscambiabili e tra di loro differenti e poi un grandissimo portiere ragazzi, Carnesecchi che credo sarà il futuro della Nazionale se continua su questi livelli perché veramente anche oggi non ha fatto parate eclatanti ma in due o tre situazioni, soprattutto su quella deviazione di Ozyman dove lui era quasi a terra, la prende, la tocca sul palo poi sicuramente anche un po' di fortuna per l'Atalanta ma la fortuna la devi ricercare, la fortuna la devi ritrovare e se la trovi è perché l'hai meritata nella maggior parte dei casi oggi la Dea ha fatto una super partita al Maratona un Napoli che nel primo tempo ha sbagliato tanto ma non sono solamente gli errori individuali che vanno additati al Napoli ma è proprio la mancanza di intensità cioè questo Napoli oggi è mancato di intensità non ha mai cambiato passo, non è mai stata feroce e probabilmente se avesse giocato come in alcune frazioni del secondo tempo tutta la partita avrebbe anche potuto vincerla questa gara perché la Dea è una squadra forte ma come tutte le squadre può essere battuta se si gioca a un certo tipo di intensità e si gioca a un certo tipo di calcio però ragazzi, cioè, io sono molto molto deluso da questo Napoli e sono estasiato da questa Atalanta estasiato perché? Perché andare a Napoli vincere con tre gol di scarto perché, ragazzi, la verità è questa è inutile che ci giriamo troppo intorno cioè, vincere 3-0 al Maratona è qualcosa di veramente, veramente forte di veramente, veramente grandioso e ci dà la dimostrazione forte e chiara che questa squadra può, deve sognare e deve cercare di giocarsi tutte le proprie carte per andare in Champions League e per andare più avanti possibile nel percorso in Europa League questo perché? Perché ha tutto per farlo e ha tutto anche per battere il Liverpool che in due gare si può abbattere parte da sfavorita, ma può batterlo e oggi questi tre fischioni al Napoli ragazzi, ci dicono tanto tantissimo che squadra adesso ne parliamo in maniera più approfondita prima di tutto lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivate la canta da venina e condividete il video siamo nei minuti di recupero della sfida tra Atalanta e Napoli torniamo a parlare di calcio finalmente e torniamo a parlarne con una sfida di mezzogiorno e 30 veramente, veramente entusiasmante più per i tifosi della Dea, ovviamente che oggi si mettono in tasca il Napoli in tutto e per tutto come Ian si mette in tasca Osimène e poi l'immensa qualità i cambi, la quantità di giocatori che questa Atalanta ha per poter giocare le partite oggi in panchina partiva gente come Kupmeiners come Lukman non c'era De Cateller a sinistra non giocava Ruggeri che è stato il titolare pertanto ma ha giocato Zappacosta ha giocato De Borre non Holm giocava Ian cioè Scalvin ragazzi ma capite quanta gente può giocare in questa Atalanta e il motivo per il quale hanno questa intensità è perché vanno a 2000 in allenamento in partita seguono l'allenatore e giocano un calcio splendido oggi l'Atalanta ha giocato una partita da grande squadra perché è vero che il Napoli quest'anno ha molti problemi in difesa ha molti problemi di mentalità ha molti problemi a rimanere in partita e soprattutto ad essere costante all'interno dei 90 minuti per oggi l'Atalanta ha dato lo strappo decisivo diciamo soprattutto dal punto di vista della qualità e dell'intensità con il quale ha giocato questa partita l'Atalanta voleva vincere voleva iniziare questo tour de force di partite che comprenderanno anche la semifinale di Coppia Italia i quarti di finale con il Liverpool per far capire a tutti che l'Atalanta c'è e non mollerà un centimetro perché oggi io mi aspettavo una partita molto più combattuta che poi in realtà nel secondo tempo c'è stata ragazzi perché poi il Napoli le ha avute ha preso un palo ha fatto due grandi parate carne secchi le ha avute le sue opportunità però oggi la superiorità della Dea nei 90 minuti a mio parere è stata imbarazzante Ozyman male malissimo ripeto Ien oggi ha già avuto una super partita su Ozyman Ozyman è riuscito a saltare Ien una sola volta in tutta la partita all'ottantesimo minuto e su una sponda quando poi l'Instrom si è fatto anticipare in occasione dell'infortunio di Scalbini che poi sarà da valutare ovviamente per le gare che dovranno che dovranno arrivare e ha dimostrato il perché l'Atalanta lo ha scelto a quel prezzo e in un sistema di gioco che è molto familiare a un giocatore così lo svedese che può essere secondo me un grande upgrade lì dietro serviva un investimento lì per compattare un pacchetto difensivo solido ma che aveva bisogno di nuovi volti anche carne secchi ne abbiamo già parlato e poi ragazzi là davanti cioè capacità di inserimento straripante cioè ragazzi i centrocampisti dell'Atalanta arrivano da dietro con una facilità disarmante esterni che vanno a 2000 e Miranciuk ragazzi perché bisogna iniziare a fare un discorso serio su Miranciuk Miranciuk che è andato in gol anche con la Russia durante la pausa nazionale e che ha servito tanti assist questa stagione e che è un po' Lilić che Lilić scusate che mancava a questa idea dai appunto momenti fantastici di Papu Gomez Zapata Ilicic cioè quel giocatore estroso classe pura tecnica pura che riesce a farti la giocata giusta al momento giusto in occasione del gol è stato bravo perché lì l'errore ragazzi è del pacchetto difensivo che fa una chiusura da film horror Rachmanis viene sulla prima e poi sul secondo gol anche di ragazzi di Scamacca cioè lì Juan Jesus non può fare quello non deve fare quello non è sopportabile mentalmente secondo me una cosa del genere da un difensore perché lì non è mai fallo di Scamacca sul primo gol non è mai fallo su Rachmanis e sul secondo gol prima dell'intervento di Scamacca non è mai fallo su Osimène perché oggi è stata una partita corretta è stata una partita tosta dove sono stati contrasti dove l'intensità ha fatto da padrone e anche la grande qualità e l'Atalanta ha vinto sotto tutti i punti di vista perché questa Atalanta è forte 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 e il Napoli di Calzona non è ancora in grado di saper gestire i momenti della partita è una squadra da rivedere è una squadra su cui lavorare è una squadra che probabilmente deve cambiare qualche elemento perché va rifondata va rifondata perché il giocattolo si è rotto troppi cambi di allenatori Spalletti non ne esistono tanti e quello che è esistito è stato a Napoli gli ha fatto vincere uno scudetto incredibile e clamoroso ho avuto a che ridire anche con qualcuno che mi diceva che il Napoli ha il potenziale la squadra più forte del campionato e gli ho detto mettendomi a ridere allora tu non guardi le partite di calcio perché secondo me il Napoli non è per niente la prima squadra ha delle grandi individualità ma non è la squadra più forte del campionato e queste partite ce lo stanno dimostrando e da quando è andato via Spalletti il campionato e il campo dimostra tranquillamente questo onestamente diretto e chiaro come al solito non mi nascondo prendo sempre le mie responsabilità e continuo a ripetere quello che ho sempre detto Atalanta mostruosa Napoli no meritatamente sconfitto e Atalanta che vola adesso a meno uno dalla Roma e a meno quattro dal Bologna attendendo ovviamente le gare di lunedì del Bologna contro la Salernitana in casa e della Roma in trasferta a Lecce ci vediamo oggi pomeriggio con un grandissimo pomeriggio di calcio dal vostro anno un grande abbraccio scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e mi raccomando iscrivetevi tanti like e ci vediamo al prossimo video un grande abbraccio un grande abbraccio